...sia a te che al nostro pubblico un'altra sorpresa comica. Signori, i fate bene, fratelli! Però! Perché l'ho ammazzata, Gennaro? Perché? Ma bevano te palla e cocodì e cocodà! Ma bevano te palla e cocodì e cocodà! Come se veste a carne, come se veste a carne, ah? Ah, il giro è alla spesa! Zuppo di soffritto! Però l'inverno! No, l'inverno è stato un po' di fanno! Non lo fanno, non lo fanno! La richiesta si fa! Quando è arrivata un'inverno! Una tempesta che non vi dico! Ucina si era fatta nire nire! Precipitazioni spazio! Come fa signoraggio Zappatello? Un Zappatello? Non si scorda mamma! A te nocchito! E va se ma si muore! A te! A voi! A voi! Grazie! Grazie al tuo! Fate bene, fratelli! Grazie! 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 Grazie!